Per questo Natale mettiamo subito i puntini sulle I, o forse è meglio le puntine sulle O Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, primo video dedicato al Natale Annunciato per venerdì e mandato di lunedì, perché? Perché la mia testolina ha deciso così E chi mi segue ha capito cosa voglio dire E allora ragazzi, finalmente ci siamo, c'è il primo video del Natale Comincia la grande galoppata verso la festa più importante e più bella dell'anno per la sottoscritta Che quindi trasporta nel canale tutta la propria enfasi per questa celebrazione Prima di cominciare, se non vuoi perderti neanche un video, mi raccomando attiva la campanella Che è anche un gran bel simbolo di Natale, così ti arriveranno tutte le notifiche Non ti perderai nessun video, non soltanto da qui a Natale, ma da qui all'eternità Sei contento, vero? E soprattutto mi raccomando, se i video di Natale ti piacciono, lasciami un bel pollice in su E non dimenticarti di iscriverti al canale, perché arte per te, come ben sai, non parla solo di lavoretti Di creatività natalizia, ma parla di arte a 360 gradi Quindi troverai sicuramente l'argomento che è più confacente alla tua sensibilità artistica E io sarò ben contenta di inoltrarti in questo bellissimo mondo fantasioso e colorato che è dato dall'arte Bene, basta parlare, andiamo a lavorare E quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere come la prima decorazione si farà Ed eccoci pronti per creare la nostra prima decorazione per il Natale Evviva, evviva, siamo ancora a ottobre, già pensiamo al Natale Ma noi siamo lungimiranti Anche perché quest'anno vi proporrò un sacco di decorazioni fatte soprattutto di pazienza Quindi armiamoci per tempo Sarà una bellissima sfera di Natale dorata e metallica E per realizzarla ci servirà appunto una pallina di polistirolo del diametro che più preferite Della Vinavil Un pennellino da poco conto Una mini spilla da balia di queste dorate Le trovate da cinesi nelle mercerie in qualunque posto voi andiate a cercare Alla Lidl molto spesso le vendono in set molto compositi Insomma probabilmente nel cestino da lavoro di vostra madre c'è già Dopodiché o nel vostro Un laccetto dorato Un paio di forbicine E delle puntine Puntine queste qua Sono colorate di solito Ve le faccio vedere Hanno diverse colorazioni Ma l'importante è che qui il chiodino appaia dorato E anche il retro Perché noi poi faremo così Taglieremo con le forbicine la plastichina E la rimuoveremo del tutto Così E quello che ci rimarrà sarà una bellissima puntina dorata E allora come prima cosa quello che andremo a fare sarà proprio questo Mondare le puntine Una ad una Togliere tutti i capocchietti dalle nostre puntine Per rimuovere le capocchiette basta insinuare la punta delle forbicine sotto dove c'è il margine E spingerla via senza quindi rompere tutte le capocchiette che possono servirci invece per altri lavoretti di arte per te Quindi queste palline che rimangono questi cerchietti colorati conservateli in bustine perché diventano automaticamente delle decorazioni Prendiamo una delle nostre palline in polistirolo e pratichiamo una piccola fessurazione con le forbici Con una forbice Ecco qua così Quindi prendiamo un pochino di vinavil Sportiamo la capocchia della spilla d'abbalia così ben bene E infiliamo appunto dal lato della capocchia la spilla d'abbalia giù nel polistirolo Voilà In modo che rimanga fuori soltanto l'anellino dorato Ricordatevi che la vinavil poi diventerà trasparente Diamo anche una sottilissima mano di vinavil tutto attorno E adesso cominciamo ad applicare le nostre puntine dorate Partendo proprio accanto al gancetto cash Andiamo a inserire le nostre puntine Facendo in modo che il chiodino affianchi Ma proprio affianchi La capocchia della puntina precedente Quindi Così Ok? Devono accavallarsi l'una all'altra Affiancate il chiodino E infilzate la puntina Affiancate il chiodino Voilà Il primo giro è completo E adesso continuiamo infilzando i chiodini così Uno accanto all'altro Compiendo un giro tondo Capire quale sarà il punto in cui infilzare la puntina Sarà molto semplice Perché sarà l'angolo che si forma Tra la puntina del piano di sopra E la puntina del piano di sotto Quindi Ad ogni intersezione di angolo Voi infilzate una puntina La vinavil è necessaria? Mi chiederete Beh Se volete assicurare in maniera definitiva Le puntine alla sfera Io vi consiglio di metterla Se invece a fine natale Vorrete smontare la vostra pallina Ed utilizzare le vostre puntine Allora lasciatele senza vinavil Io non ho intenzione di smontare la pallina Quindi le assicuro bene con la vinavil Allora lasciatele all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lame His fortune seemed his not He got into a drifted bank And then we got upsort Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh E poi l'ultima La piantate in centro Così Voilà A questo punto quello che avremo sarà questa bellissima sfera Molto consistente Davvero una bella sfera Non sembra un lavoretto DIY Sembra una cosa comprata in un negozio molto molto costoso È veramente una sfera gioiello Prendo un semplicissimo l'accetto dorato Ma voi potete abbellirla con qualunque l'accetto voi desideriate Anche un bel nastro bordeaux ci sta d'incanto Facciamo un bel nodino In alto Sfrangiamo E voilà La nostra prima decorazione per il nostro lucente natale è pronta Ora con le mani schiacciate ben bene Assicurate tutte le puntine finché la colla non sarà del tutto asciutta Quindi potrete decorare il vostro albero È una bellissima pallina di sostanza Considerando che a un prezzo davvero irrisorio Una scatolina come questa Io la pago circa 50 centesimi 60 a seconda del posto dove la compro Ne ho utilizzate 6 scatoline Con 3 euro più altri 60 centesimi di pallina di polistirolo Ho fatto un oggetto Che se voglio comprare in un negozio Non trovo a meno di 15 euro È un bellissimo anche dono da fare agli amici Quindi pensateci per tempo Perché una scatolina con 3 di queste decorazioni Magari con dei fiocchi in raso bordeaux Impreziositele come le desiderate Sono veramente un trittico Eccezionale Vi lascio alle foto E noi ci vediamo dopo E buona preparazione al Natale Non vedevo l'ora di dirlo Avete visto che abbiamo messo davvero Le puntine sulle O E allora Questa O di polistirolo Questa sfera di polistirolo È diventata questa magnifica sfera Ragazzi è pesantissima È bellissima Nelle foto ve l'ho fatta vedere Anche con il nastro in raso E acquista sicuramente Una liur molto più elegante E molto più da negozio chic Non vi nego che io una pallina così Fanatica come sono per il Natale La pagherei anche 10-15 euro Quindi fatevi sotto Date fondo agli scatoli Ammassati di puntine Che tutti noi abbiamo nei cassetti Perché le puntine sono quelle cose Che si comprono sempre in grande quantità E che poi non si usano Mai Diciamo la verità Bene troviamo un'utilità natalizia A questo oggettino Di cartoleria E facciamo in modo che Venga riutilizzato In maniera creativa E fantasiosa Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemelo capire Dai vostri commenti E dai vostri pollici in su Vi aspetto anche sui miei altri canali Ombretta Il mio canale di lifestyle Dove vi dico Come vivo Come affronto la vita E tutte le componenti Che fanno parte della mia vita Ve le racconto su quel canale Oppure su 2Q1K Dove insieme al mio maritino Prepariamo manicaretti Per stuzzicare la vostra golosità E allora ragazzi Non mancate Ma soprattutto Non perdetevi il prossimo video L'avete attivata la campanella Ci conto E allora Ci diamo appuntamento sempre qua Per il prossimo video Da ombretta E da arte per te è tutto Buona preparazione al Natale Alla prossima volta Ciao